La missione riscatto del Futsal Barletta, la voglia di tornare a vincere e conservare l'imbattibilità stagionale del Barletta Calcio 5, l'intenzione di continuare sul percorso intrapreso da parte del San Rocco Ruvo. Tutti temi d'attualità, la vigilia degli appuntamenti agonistici che propone il sabato del Calcio 5 per le protagoniste del campionato di Serie B. Archiviare la parentesi negativa con il Giovinazzo è un obbligo per il Futsal Barletta, che deve necessariamente tornare a muovere la classifica dopo due battute d'arresto consecutive. Tempo ed occasioni per risalire la china non mancano ai biancorossi di Leo Ferrazzano, attesi ad un pronto riscatto già domani pomeriggio in trasferta contro Lisernia, avversario di sicuro non abordabile ma neanche insuperabile. Molto dipenderà dall'atteggiamento del Futsal. Noi abbiamo solo un motto, dobbiamo lavorare e scendere in campo per vincere le partite, perché comunque abbiamo i mezzi, abbiamo le caratteristiche e soprattutto abbiamo l'organico per poterlo fare. Si è fatto tanto calciomercato prima dell'inizio di questo campionato, la Futsal Barletta favorita, la Futsal Barletta ha già vinto il campionato, ecco poi succedono queste cose. La responsabilità è mia, di tutto il mio staff comunque di tenere gli animi tranquilli perché questi sono i momenti in cui il gruppo deve uscire e deve dimostrare veramente il proprio valore. E reduce da un buon pareggio esterno a campo basso invece il Barletta Calcio 5 che ospita al pala di sfida Mario Borgia, inizio previsto alle ore 16, il Conversano. I biancorossi di Roberto Chiereghin, secondi in graduatoria, non hanno mai perso in questa stagione e vogliono continuare a stupire. Tornerà in campo dopo il turno programmato di sosta della scorsa settimana il San Rocco, vittorioso nelle ultime due esibizioni ufficiali. Il quintetto ruvese se la vedrà sul parquet del Palacolombo, inizio previsto alle 16 contro il quotato San Michele, una delle tre capolista a punteggio pieno del Girone F.